Ciao amici di Radio Ucci, io sono Giulia, in questo Focus Previdenza parliamo del recente avviso pubblicato dall'Inail relativo alla prevenzione degli infortuni in ambito domestico. In particolare l'Inail fa sapere che verranno realizzati interventi informativi per la sensibilizzazione sui rischi infortunistici in ambito domestico e i rimedi per eliminarli e o ridurli. I destinatari di questi interventi sono i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti che svolgono a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano in modo abituale ed esclusivo senza svolgere altre attività che prevedono obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale diversi da Inail. Possono fare domanda le organizzazioni indicate dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali numero 204 del 15 ottobre 2021. Le risorse messe a disposizione ammontano complessivamente a 500.000 euro. Per quanto riguarda le domande, dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica sul portale Inail e dentro il 31 maggio 2022 l'Istituto comunicherà la data di apertura e chiusura della procedura informatica. E per ora è tutto, al prossimo Focus!